Centro Cefalea dell'Aquila accoglie pazienti adulti, bambini e adolescenti. In questo periodo ne stiamo potenziando le attività offrendo un maggior numero di slot giornalieri per le visite ai pazienti e questa esigenza è dettata dall'alta frequenza della cefalea nella popolazione generale. Basti pensare che la sola emicrania che comunque è un tipo di cefalea colpisce occasionalmente una persona su quattro e che addirittura sei milioni di italiani ne soffrono abitualmente ed è sicuramente una patologia che porta con sé una grande disabilità perché chi soffre di emicrania sa che non sta male soltanto nel giorno dell'attacco ma anche nel cosiddetto periodo interictale che è il periodo compreso tra un attacco e l'altro in cui la persona non si sente la testa sgombra, non ha i cosiddetti crystal days ovvero i giorni cristallini con testa pulita, sgombra e quindi tutto questo va a interferire con la sua attività produttiva o nel caso dei bambini, degli adolescenti con l'attività scolastica. La buona notizia però è che negli ultimi anni la terapia della cefalea in genere in particolare dell'emicrania è stata rivoluzionata dall'introduzione di nuovi trattamenti, di nuovi farmaci. Il centro cefalea dell'Aquila dispone di tutti questi trattamenti all'avanguardia a livello internazionale a partire dai farmaci per la prevenzione come gli anticorpi monoclonali di cui tre vengono somministrati a livello sottocutaneo una volta al mese mentre l'ultimo nato che sarà presto disponibile verrà somministrato per via endovenosa una volta ogni tre mesi quindi lasciando anche una certa libertà al paziente di vivere la propria vita quotidiana in modo sereno e di non assumere una condotta di evitamento nei confronti di una serie di stimoli che possono innescare l'attacco di emigrania. Poi c'è un altro trattamento sempre all'avanguardia a livello internazionale che è la tossina botulinica in cui viene infiltrata questa tossina in determinati punti sempre a livello sottocutaneo e secondo un protocollo internazionale. Questa però è riservata alla cosiddetta emicrania cronica quindi quando il paziente ha più di 15 giorni di cefalea al mese per diversi mesi. Infine ci sono dei blocchi nervosi che sono però riservati a particolari profili di pazienti e che sono comunque disponibili nel nostro centro. Poi la terapia è stata anche rivoluzionata per quanto riguarda il trattamento dell'attacco acuto perché esistono dei farmaci specifici per trattare l'attacco che non sono i comuni analgesici che per fare un esempio vanno bene per il mal di denti come per l'emicrania ma sono dei farmaci specifici per trattare l'emicrania e sono veramente molto efficaci. Esiste comunque non soltanto l'emicrania ma anche altri tipi di cefalea per esempio la cefalea tensiva, la cefalea grappolo, la nevralgia e sicuramente abbiamo un approccio molto più efficace per trattare ognuno di questi tipi di cefalea. La cefalea come abbiamo detto è molto frequente anche in età infantile, in età pediatrica, in età adolescenziale e spesso si fa il drammatico errore di non riconoscerla o di scambiarla con un capriccio del bambino o una scarsa propensione nei confronti dell'attività scolastica. Ecco non è assolutamente così e quindi l'invito è anche ai genitori a far vedere il loro bambino e il loro ragazzo da uno specialista neurologo del centro cefalea affinché possano avere i giusti consigli anche per affrontarla, per trattarla e per evitarne la cronicizzazione in un'età più adulta.